Quella ucraina, Victoria Kesar, Anna Pismenska, tornato Carpiato con la sua attuale compagna di viaggio, Victoria Kesar. E questo è già un... Calca non esattamente nello stesso momento, sempre leggermente di lato entrambe, vedete, si spostano un pochino ognuna lateralmente, cosa che poi vedremo... Ci stiamo avvicinando a quota 50, il riepilogo della classifica. Adesso Kesar Pismenska, ordinario rovesciato Carpiato. Ci sono, diciamo, sulla carta 200 punti da andare a questo programma di tuffi delle nostre, mentre le tedesche a parità di coefficiente. L'oppio mezzo avanti Carpiato con un avvitamento per l'Ucraina. Andare molto più avanti, guardate qui, gambe piegate individualmente, il tuffo è sicuramente molto sporco. Poi non dovrebbero essere tanti punti. 54,90, si può provare a dare la caccia all'Ucraina. Il quarto tuffo se ce l'ho tanto anche per loro. Kesar Pismenska, triplo e mezzo avanti Carpiato, coefficiente 3,1. Ecco, c'è stato un po' di tutto. Esatto, che non fa la circonduzione. Poi arriva molto in avanti, quindi pensavo che lei avesse sbagliato qualcosa. Ma anche la Pismenska... 49,29. Adesso si tratta di vedere se ne ha ancora. Adesso la delusione di questa gara. Ucraina, Kesar Pismenska, doppio mezzo indietro. Direi che non dovrebbero... Mi sembrava palesemente eseguito meglio lo stesso identico tuffo. Qui sono state brave, ma l'errore fatto... Chiudone a 245,79. Vigaliere, perché... ... ... ... ...